Buongiorno, sono qua per comunicare che presso i miei ambulatori di Livorno, Rosignano, Solvecca e Tignoncello è possibile intraprendere un percorso di riabilitazione respiratoria per quei pazienti che hanno subito l'evento Covid. Passato un periodo anche di oltre un mese o due, il paziente può ancora presentare disturbi legati alla funzione respiratoria. L'apparato Pronexibus Plus, apparato elettromedicale di nuova generazione che io ho presso i miei ambulatori, aiuta alla guarigione del tessuto polmonare. Università come Padova e Verona hanno lavorato in termini di ricerca, grazie a questo apparato elettromedicale, su pazienti con esiti di Covid-19. Sono stati riscontrati risultati eccellenti nei confronti della rigenerazione dei tessuti lesi, quindi asfittici, fibrotici e caratterizzati quindi dalla riduzione della elasticità che consente la qualità respiratoria. Che naturalmente viene di conseguenza a limitare l'attività motoria, il recupero funzionale e l'espletare in maniera utile le attività di vita quotidiana. L'affanno che persiste, la tossicola, il senso di pesantezza toracica, sono tutti superabili grazie alla riabilitazione respiratoria. Il fisioterapista che si avvale dell'apparato Pronexibus può garantire effettivamente un supporto necessario al recupero funzionale, ma anche alla guarigione del tessuto leso. Le sedute sono un numero abbastanza limitato, si va da 6 a 12 sedute. Il distretto di applicazione di Pronexibus Plus è l'aspetto che andiamo a riconoscere attraverso la valutazione clinica dell'atto respiratorio del paziente. Quindi toracico, polmonare e mirato. Abbiamo la possibilità, grazie all'apparato Pronexibus, di monitorare l'effetto curativo e di concorrere al recupero funzionale del soggetto in modo veramente, soprattutto cosciente. Il paziente sente il miglioramento respiratorio, attiva meglio gli schemi utili alla respirazione, quindi l'impiego del diaframma, dei muscoli intercostali, elemento fondamentale rispetto al sesso. Che la donna respira più con le coste e l'uomo prevalentemente con il diaframma. Di grande supporto ed aiuto, Pronexibus Plus, fate un contatto, anche una sola visita, per comprenderne l'importanza e la possibile efficacia. Vi saluto, grazie.